Dieci anni di Best Rock Festival, tre serate di tanta musica live e parliamo di alti livelli, un po' per tutti i gusti, al campo sportivo di Berbenno. Segnate allora subito in agenda le serate del 27, 28 e 29 giugno. Un evento ad ingresso libero e non è poco, e la varietà di un palinzesto davvero vasto e che spazierà dai toni più duri del metal e dell'harcore fino a quelli più psichedelici e riverberati di gruppi che, va detto, se non fosse per eventi di questo tipo, molto difficilmente aggiungerebbero dalle nostre parti. Si pensi agli americani shivas, consigliatissimi. La prima è una serata di tributi, quindi avremo gli Evil Sonic, che sono un tributo agli Slipknot, quindi molto metal, e un gruppo che si chiama Reynimos, che scoprirete, non posso dirvi niente in anticipo. Il venerdì anche lì rimaniamo su sonorità abbastanza pesanti, quindi sempre sul filone metal, hard rock, con Hope's Die Last, che sono uno dei gruppi più storici nel panorama hardcore italiano. Per quanto riguarda il sabato, invece, si dirotta completamente su sonorità totalmente diverse, un po' più sul pop, sull'indie e sull'elettronica. Ci sono i Queen of Sabah, che sono un duo elettronico fortissimo, che vi consiglio di venire a vedere. In apertura abbiamo gli shivas, che vengono da Portland, dagli Stati Uniti, e che sono alla loro ultima data di un tour estivo europeo molto importante, e i Funky Lemonade. Dietro al festival, un lavoro di gruppo a dir poco titanico, e che garantisce, lo dicevamo, l'ingresso libero a tutti i concerti. Tutto ciò è possibile, inizialmente, grazie ai contributi, in primis, del Comune di Prebeno di Valtellina, che ci supporta e che ringraziamo mai abbastanza. Poi, anno per anno, si va a cercare la possibilità di accedere a contributi tramite bandi, come ad esempio quest'anno con la Comunità Montana e con Pro Valtellina, Fondazione Pro Valtellina. Oltre a questo, ovviamente, poi al nostro festival potete venire, prendere da mangiare, prendere da bere, e questo è ovviamente il modo migliore per supportarci. L'amministrazione comunale è sempre molto vicina a questo tipo di manifestazioni, che riguardano soprattutto i giovani del Comune, che sono sempre molto appassionati e si dedicano a queste iniziative. Insomma, è l'edizione dei dieci anni, non resta che immergersi in tre giorni di musica live. Tutti a Berbeno il 27, il 28 e il 29 giugno. In questi dieci anni ne abbiamo fatta di strada, nel senso che siamo partiti con un evento comunque piccolino, una cosa più, diciamo, tra amici, che piano piano ha sempre preso più piede e quindi è arrivata ad ingrandirsi e diventare un festival proprio vero e proprio, nel senso che io stessa l'anno scorso, già da quando ci siamo trasferiti al campo sportivo di San Pietro, l'ho visto sotto una luce diversa, nel senso che siamo diventati grandi.